ma chi c'è qua bene 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 ma chi è questo ma come ti sei gonciato vodmart me l'ha fatta questa vodmart è chiesto questo vodmart lo conoscono tutti e questo non mi sembra vodmart si è che è vodmart però ok io come mi sono gonciato tu come ti sei gonciato ma che mi succede ah bene ciao harry potter c'è nota come fai ti svedo un duello anch'io ma vedi un po se ho la gola rossa è rimbampito questo harry potter che stifo vabbè ricominciamo e cominciamo il duello Serpentium! E' un'idea! Hagrid! E' arrivato il mio signore Hagrid! Hagrid, si! Spacchiamo questo serpentone! Ma è in miniatura! Hagrid è in miniatura! Harry Potter! Ah, eccola! La Granger! Grazie, amione! Mi serviva un aggiatino! E' un magomillino! Ma questo è un film di Disney! E' vero! Hagrid è in miniatura! E' il mio in capelli lunghi, non ricci! Harry Potter con... Harry Potter in maglietta! E' un magomillino di Disney! Ma qui siamo matti! Ma qui siamo matti! Spacchiamo! Allora, amici, voi non lo sapete che noi siamo fans di Harry... Harry Potter! Ah, ecco, amici! Noi siamo fans di Harry... Harry Potter! Quindi vi faremo vedere tante cose belle... su Harry Potter! E' il terzo compatore! Vabbè, io mi vado a fare una partita alle 15! Ci vediamo dopo? Anche io vengo! Anche io vengo! Anche io vengo! Allora... Non, anche io vengo! Questa è! Questa è la scuola! Le va a fare una città, Uncino! L'uomo!